buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 23 dicembre 2023 siamo alla vigilia di un lungo weekend perché ci saranno tre giorni in cui la nostra rassegna stampa non andrà in onda perché poi ci sono due giorni di festa per quanto riguarda i quotidiani e poi sono le feste natalizie ovviamente però insomma una piccola parentesi non ci sta male diciamo così e allora noi per oggi abbiamo tanta carne al fuoco e quindi procediamo risolutamente verso l'almanacco del giorno e vediamo ecco il santo che si festeggia oggi san giovanni di cheti visse nel quindicesimo secolo cheti è una cittadina nei pressi di cracovia giovanni si laureò in teologia e filosofia che insegnò poi agli studenti però insomma la sua vocazione non tardò molto a manifestarsi e quindi si fece sacerdote si distinse per amore verso il prossimo carità e pratica del vangelo non solo era un grande predicatore non solo aveva questo carisma nel proporre la parola di dio ma la praticava su se stesso in maniera molto molto drastica con digiuni penitenze e tutto quanto durante la sua vita compì molti miracoli questo è san giovanni di cheti lo salutiamo e passiamo alle previsioni del tempo oggi è una giornata di assoluta stabilità con cielo sereno poco nuvoloso le temperature sono al di sopra delle medie non fa freddo oggi nonostante che siamo alla vigilia di natale praticamente i dati sono un po nella norma comunque la percezione è quella del non freddo la minima 9 gradi la massima 11 gradi il temperature dunque sono ancora al di sopra delle medie i venti sulle coste spireranno da ovest e sud ovest così come nell'interno il mare è leggermente mosso e il sole sorgerà questa mattina alle 7 e 38 e tramonterà alle 16 e 32 ed ora possiamo tranquillamente passare alla rassegna stampa aprendo il corriere adriatico sulla pagina di fano ecco l'articolo di apertura si parla di sport questa mattina ma con dei risvolti di particolare perché poi ci saranno effetti sul turismo sulle presenze turistiche nei nostri alberghi e un po sulle sul programma degli eventi che correderanno le feste natalizie torneo internazionale di volley 2000 sono previste le presenze turistiche nei nostri alberghi ma non solo perché poi queste queste partite sono tante si svolgeranno un po in tutto il territorio 100 le squadre iscritte pensate che l'importanza a livello nazionale ha questo volley questo torneo dati record l'iniziativa è della Virtus e si programmerà dal 27 al 29 dicembre prossimo 100 squadre iscritte e poi potevano essere anche di più ma a questo punto le nostre strutture sportive non potevano accoglierne in numero maggiore il dato comunque rende già bene l'idea della dimensione raggiunta dal Fano International Volley Cup che comunque volendo ne può scodellare anche diversi altri dei dati 280 partite in due giorni e mezzo distribuite in 23 impianti da Pesaro a Senigallia passando ovviamente per Fano e in diversi punti dell'entroterra 40 volontari all'opera 30 arbitri a dirigere le gare e se si guarda l'impatto turistico 1000 arrivi per 2000 presenze sono appunto i giorni in cui si svolgeranno le partite una sessantina di rappresentative che provengono da fuori territorio oltre a quelle che operano nel nostro territorio dunque abbiamo anche presenze che provengono dalla Serbia dall'Olanda e danno ragione al dato internazionale di questa iniziativa iniziativa che è organizzata dalla Virtus la Virtus continua a distinguersi dunque rispetto ai club anche più prestigiosi per quello che sta organizzando proponendo eventi di grande spessore sportivo ma anche dal profondo significato sociale così ha commentato il presidente della FIPAV Giancarlo Sorbini che vediamo qui in questa fotografia questo è Sorbini questo è il assessore agli eventi Etienne Luccarelli poi abbiamo il presidente della Virtus Cenerilli e abbiamo poi Mantide dunque che cosa dire ancora su questa vicenda il presidente della Virtus Emidio Cenerilli coglie l'assist per raccontare la tre giorni che si svilupperà appunto dal 27 al 29 dicembre data in cui nonostante i problemi di capienza sarà purtroppo il nuovo Palace Allende in attesa che venga realizzata questo così desiderato nuovo Palace a Fano una città di 60.000 abitanti non può fare affidamento solo su un palestrone come quello del Salvatore Allende dunque una iniziativa che cresce e ha bisogno ancora di maggiori strutture invece per quanto riguarda il potenziamento della zona industriale di Bellocchi Terna sta realizzando un'opera di fondamentale importanza un collogamento sotterraneo per un elettrodotto che dalla centrale elettrica di Carrara arriverà fino alla zona industriale di Bellocchi per una distanza di 6,5 km entra dunque in esercizio questo nuovo elettrodotto a 132 kW di Terna la stazione elettrica e la zona industriale di Fano l'opera per la quale la società Terna guidata da Giuseppina di Foggia ha investito circa 9 milioni di euro quindi aumenterà la capacità produttiva della zona industriale e sulla prima pagina un articolo di Spalla riguarda la cronaca ci sono accaduti due incidenti nella giornata di ieri uno un investimento di un pedone sulle strade di Fano tra Viale Dante Alighieri e Via Bramante in Sassonia nella zona presso il Lungomare un investimento di un pedone intorno alle 10.30 di ieri una donna di circa 40 anni è stata urtata da un'auto all'altezza appunto di questo incrocio sembrava che fosse molto grave tanto che si così preventivava l'arrivo dell'eliambulanza ma per fortuna poi le condizioni sono migliorate la donna è stata ricoverata al Santa Croce e poi sempre nella giornata di ieri un altro incidente si è verificato in via Brigata Messina intorno alle 9.30 dove una Ford Fiesta condotta da un'ottantenne di terre roveresche si è scontrata con una Dacia guidata da un fanese di 64 anni e secondo gli accertamenti la Fiesta è uscita da un passo privato mentre la Dacia percorreva via Brigata Messina ebbene è quest'ultima auto con all'interno ovviamente l'autista che ha riportato i danni peggiori l'uomo, anzi la donna che la guidava è stata ricoverata al pronto soccorso per fortuna in codice giallo quindi anche se ha avuto dei gravi danni l'auto la donna se l'è cavata abbastanza diciamo così tra virgolette abbastanza bene e ieri è stato presentato anche tutto il programma di iniziative che animerà alla fine dell'anno a Fano la notte di San Silvestro ci sono tante iniziative tante per tutti i gusti per i giovani, i meno giovani gli adulti insomma tutti potranno divertirsi sono tre i punti focali magari uno è quello più importante ovvero Piazza 20 Settembre da quando al suo tempo l'assessore Martino Branca inaugurò questa prassi questa abitudine di incontrarsi l'ultimo dell'anno tutti i fanesi in piazza si è protratta poi nel tempo fino ai giorni nostri ebbene questa volta in Piazza 20 Settembre dalle ore 23 ci sarà un mega concerto da un gruppo molto molto vivace molto attivo sono i cantautori clandestini che provengono dalla scuola di Riccardo Cocciante sono dotati di una strumentazione particolarmente voluta di cui fa parte anche un violino elettronico sono molto vivaci quindi i giovani si divertiranno tantissimo ebbene dalle 23 suoneranno fino alle 2 di notte ci sarà ovviamente il countdown per quanto riguarda l'arrivo dell'anno nuovo ma per gli amanti del teatro alle 22 anzi diciamo così più che gli amanti del teatro diciamo tutte le famiglie anche con i bambini potranno andare a teatro teatro della fortuna ad assistere allo spettacolo sconcerto d'amore con una coppia di musicisti Nando e Mayla che si esibiranno in vere e proprie acrobazie musicali che coinvolgeranno il pubblico in modo particolare i bambini ecco perché appunto le famiglie sono invitate questo è uno spettacolo fatto a loro misura ma chi vuole ridere invece e divertirsi può andare al Politeama dove si esibirà il San Costanzo Show con l'odissea dei Promessi Sposi in una notte di mezza estate qui c'è Amo Mero c'abbiamo Manzoni c'abbiamo Shakespeare insomma un put purri di risate di divertimento che gli attori del San Costanzo Show non ci faranno mancare anche qui ci sarà una pausa per festeggiare la mezzanotte si scenderà tutti nel foyer si brinderà si mangerà il panettone e poi si ritornerà a teatro perché poi ci sarà il meglio del San Costanzo e anche la proiezione del film non aprite quella sporta una stanza piena di giochi per i bambini di pediatria è stata allestita dai carabinieri di Fano da quelli in attività da quelli in pensione insieme ai loro colleghi di Sant'Ippolito l'iniziativa dei carabinieri per i piccoli di degenti hanno riempito hanno riempito una stanza di giochi poi hanno detto ai bambini entrate scegliete quello che vi piace di più e prendetelo veramente è come entrare in una stanza delle meraviglie è una bella iniziativa questa assunta dai carabinieri comandati dal comandante capitano scusate Massimiliano Popale e poi ci sono anche i carabinieri in pensione il reparto ha una prerogativa il reparto comandato guidato diciamo così presieduto dal primario Lorenzo Tartagni ebbene questo reparto ha detto il dottore ha la prerogativa di poter assistere anche i bambini al di sotto dei sei anni che sono stati operati per la prima volta nell'ospedale Santa Croce cosa che prima non poteva avvenire e infatti nel reparto di pediatria sono ricoverati anche dei bambini che provengono dal reparto di Ottorino dove sono stati sottoposti ad un intervento di adenotonsolictomia insomma hanno tolto le adenoidi quindi è un intervento che prima non si faceva e adesso invece si fa e quindi anche questo qualifica l'operatività del nostro ospedale quindi una bella iniziativa per il Natale doni ai bambini vediamo ora la politica ancora d'esta polemica la decisione della regione Marche di protrarre addirittura al 31 dicembre del prossimo anno la modifica dell'ambito in azienda servizi alla persona questa volta vediamo che il capogruppo del partito il capogruppo consigliare del partito democratico Agnese Giacomoni ad elevare la sua protesta ASP azienda servizi alla persona un sabotaggio politico e Ruggeri sta con le destre perché un emendamento di Marta Ruggeri capogruppo in regione del Movimento 5 Stelle è stato consenziente per lo spostamento di questo provvedimento nel corso degli anni Marta Ruggeri lo aveva giustificato dicendo che serviva ancora più tempo alle rappresentanze locali per dare il loro contributo però insomma la maggioranza di centrosinistra non è d'accordo quella di Fano ovviamente soprattutto preventiva teme che ci siano ripercussioni sui servizi dati alle persone più frangili in modo particolare e quindi abbiamo la protesta contraccolpi del voto in regione Giacomoni del partito democratico critica il Movimento 5 Stelle e questo potrebbe costituire anche una spina nel fianco alle trattative per allargare la maggioranza di centrosinistra in vista delle prossime elezioni dato che il Movimento 5 Stelle fa parte del gruppo dei progressisti che sono gli interlocutori della maggioranza attuale per costituire una coalizione più allargata la natività di Paravento presentata in Vaticano ora siamo a Cagli una iniziativa che è stata fatta a Roma qui vediamo i figuranti di questo presepe animato che sono stati ricevuti dal Papa e hanno allestito anche oltre al presepe anche la scena dell'incontro di San Francesco con Santa Chiara una bella avventura questa per tutti i figuranti che hanno partecipato a questa sacra rappresentazione a San Costanzo si è approvato il bilancio del prossimo anno l'Imu rimane invariata ma la minoranza dice no passa infatti a maggioranza la delibera a San Costanzo e vengono dati fondi anche al centro sociale l'assessore Omar Ciani con delega al bilancio ha detto che per il 2024 sono stati stanziati 380 mila euro per il nuovo centro sociale di Solfanuccio con mutuo della Casa Depositi e Prestiti a cui si aggiungeranno anche 50 mila euro con fondi statali per misure a sostegno dell'efficientamento energetico ovviamente la minoranza è stata critica nei confronti di questo provvedimento Domenico Carbone ha duramente attaccato appunto la Giunta mancano le cose fatte e siamo rimasti delusi ha detto per il mancato coinvolgimento nella battaglia contro l'ampliamento della discarica e questo la discarica di Monteschiantello è una spina nel fianco questo che insomma ferisce San Costanzo tentano di forzare la finestra ladri messi in fuga a Castelvecchio a Castelvecchio è una è una località dove i furti si ripetono piuttosto frequentemente in questi giorni quindi bisogna stare particolarmente attenti in allerta allontanati tre sconosciuti a piedi sui social e in strada non si ferma dunque la paura per le incursioni dei ladri nelle abitazioni del centro di Castelvecchio un nuovo episodio per fortuna questa volta non è andato a buon fine per quanto riguarda i malviventi i furti e sono stati scampati giriamo la pagina e andiamo a Senigallia a Senigallia parliamo di un argomento che non interessa soltanto questa località direi che interessa un po' tutti quello dei regali di Natale e molti sono ancora in imbarazzo perché non sanno cosa scegliere non sanno come fare felici le persone in un giorno bello come quello del Natale allora ci sono regali alternativi quali sono le proposte che vengono fatte a Senigallia vediamo di coglierne leggendo questo articolo allora per gli indecisi e ritardatari c'è ancora qualche possibilità per esempio il settore della cultura il settore della cultura potrebbe determinare il regalo di biglietti per spettacoli e visite guidate per un anno a 12 euro nemmeno molto il prezzo di questo regalo però un regalo importante un regalo che la cultura insegna e si protrae nel tempo e quindi insegna molte cose e dicevo l'abbonamento è possibile con l'abbonamento è possibile visitare la Rocca di Senigallia molto bella tutte le volte che si vuole in un anno e avere una prelazione sui posti riservati in occasione di eventi a numero chiuso quindi è una bella opportunità e poi abbiamo la stagione teatrale di prosa al teatro Misa di Arcevia Misa che mi sa che mi abbono questo è un po' il titolo Misa mi sa che mi abbono per la campagna abbonamenti che è partita giovedì scorso biglietti per mostre musee e concerti finiranno sotto l'albero di a chi ha optato per una convenzione ci sono poi gli amici a quattro zampe bisogna stare attenzione il giornale suggerisce di adottare un cucciolo e regalarlo per Natale però dicevo bisogna fare molta molta attenzione regalare un cucciolo non è un oggetto non è un passatempo è un impegno che poi dura per molti anni durante la propria esistenza quindi deve essere un regalo molto consapevole è un regalo bello perché i cuccioli poi danno affetto danno simpatia sollevano anche i momenti di tristezza e quindi ci si rimane affezionati come se fossero un membro di famiglia però mi raccomando fate attenzione Beffa beach cross niente big delle moto persa un'occasione e anche la bizzarri ebbene l'evento potrebbe portare bagnaia e doviziosi in realtà non l'ha fatto ed è questo che bizzarri l'ex assessore l'ha dato alle sue dimissioni il Senigallia beach cross ha cancellato cancellato dalla giunta e tra i motivi delle dimissioni dell'ex assessore al bilancio e quindi ci sono dissidi all'interno della maggioranza in merito a Senigallia ma noi invece passiamo direttamente a Pesaro dove vediamo altri particolari per quanto riguarda il programma di manifestazioni che il capoluogo ha organizzato in vista della capitale nazionale della cultura cater capodanno apre il 2024 la lunga notte per la rincorsa ebbene il sindaco Ricci e l'assessore Vimini hanno svelato anche i dettagli della giornata inaugurale con il presidente Mattarella una giornata che avrà luogo al Vitifrigo Arena dove si alterneranno gli spettacoli a fare da apripista sarà il cater capodanno del 31 dicembre in Piazza del Popolo firmato RAI Radio 2 ponte simbolico verso la cerimonia inaugurale del 20 gennaio definita la festa intergenerazionale dal sindaco Ricci e dell'assessore Vimini ebbene ci sarà l'apertura alle 11.30 alla Vitifrigo Arena con l'intervento del presidente Mattarella quindi veramente la massima carica dello Stato ingresso gratuito ma con posti nominativi da prenotare a partire dal 27 di dicembre e poi abbiamo una maratona non stop quella del 20 gennaio che riprenderà alle 17 con il concerto gratuito di Max Gazet dalle 20.30 Mirko Casadei e la sua orchestra ed ancora fino a tarda notte ed ancora fino a tarda notte all'insegna dell'anticonformismo la performance di Rosa Chemical e poi l'alternanza di alcuni pesaresi nell'evento Once a Year quindi veramente ce ne sono tantissime di queste iniziative che poi proseguiranno tutto l'anno con delle parentesi dedicate ai comuni dell'entroterra compreso Fano e poi a Natale si va per musei la bellezza apre le porte da ieri al 7 gennaio tutti gli appuntamenti con eventi mostre e musica e il nostro territorio devo dire molto ricco di queste iniziative iniziative che arricchiscono la cultura e danno un impulso importante allo spirito inseguiti dalla polizia speronano la volante fermate in due nascondevano 10 chili di droga panico per il boato all'ora dell'iperitivo veramente una una iniziativa molto molto rocambolesca quella attuata dalle forze di polizia ma vedo che siamo molto molto in ritardo questa mattina dobbiamo solo dare qualche notizia pubblicata dall'arresto del carlino ma comunque gli articoli e gli argomenti sono quasi gli stessi si apre con il capodanno più forte del mondo in piazza 20 settembre e poi abbiamo invece i regali della regione quello che la regione sta dando a Fano per quanto riguarda la sanità per quanto riguarda la cultura per quanto riguarda le strutture e poi vediamo grazie al volley il turismo d'inverno vola anche qui una bella iniziativa organizzata dalla Virtus con tantissime squadre che presenzieranno a Fano Terna che realizza l'elettrodotto per la zona industriale e poi un articolo di politica per le candidature e ritornano nel nome della Lega Luca Serfilippi e Gianluca Ilani e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa permettetemi di fare gli auguri di Natale a voi a tutte le vostre famiglie e quindi ci risentiremo il 27 dicembre prossimo grazie per l'ascolto a risentirci a ander